Uomini e donne, anticipazioni Trono Over Gemma Galgania ma ancora Giorgio Manetti? Maria De Filippi interviene, il pubblico convinto che la storia non è finita. Continua la conoscenza tra Nicola e Iara nello studio di Uomini e Donne. I due dichiarano di essere molto contenti anche se la dama svela di volerci andare molto piano a causa di alcune delusioni vissute in passato. Intanto da casa il pubblico apprezza in particolar modo la coppia che dovrebbe essere da esempio per tutti coloro che cercano l'amore nel noto studio di Uomini e Donne. È facile leggere commenti come che uomo, Nicola. Dolce e sensibile, profondo e rispettoso di tutto, misurato e contenuto e ancora tutti come lui, Questo è quello che dovrebbe succedere in questa trasmissione e c'è chi sottolinea mi piacciono. Lei tanto, lui un po' moscetto. Ma sono carini. Non fanno commedia, mi sembrano veri. La coppia lascerà presto lo studio insieme. Attendiamo ulteriori sviluppi in merito. Anna Montesano Gemma felice grazie a appunto dicembre. Gemma Galgani sente già lo spirito natalizio. La dama del trono over di Uomini e Donne, sempre romantica e speranzosa, è pronta a vivere il momento più magico dell'anno. Felice di poter condividere la sua gioia con le fans che la seguono da otto anni e a cui rivolge sempre un pensiero quotidiano, su Facebook, ha scritto oggi a dicembre. Vovovovovov. Le feste di avvicinano, il Natale si avvicina. I regali, il buon cibo. E domani a Torino dicono anche la neve. Vado a dormire felice, scrive Gemma. Con il Natale alle porte, dunque, i fans si chiedono se la dama del trono over riceverà in regalo il principe azzurro che aspetta da tanto. Molti ammiratori della Galgani sognano il ritorno di fiamma con Giorgio Manetti. Al momento, però, la riappacificazione tra i due è ancora lontana. Giorgio, infatti, non sembra disposto a riprovarci. Cosa accadrà, dunque, nella vita sentimentale di Gemma? Arriverà un nuovo cavaliere pronto a conquistare il cuore. Aggiornamento di stella di Benedetto.Gemma Galgani ancora innamorato di Giorgio Manetti? Nonostante nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani continui a conoscere nuovi pretendenti e, di fronte ai sospetti degli opinionisti, continui a ribadire di non essere interessata a Giorgio Manetti, il pubblico a casa è convinto che invece la dama sia ancora molto innamorata di lui. A mostrarlo sono anche le immagini delle ultime puntate andate in onda del Trono Over, durante le quali c'è stato un avvicinamento molto importante tra i due. E se Gemma sembra ancora palesemente presa dal cavaliere, anche lui non sembra disdegnare le sue attenzioni. Proprio nel corso della puntata andata in onda ieri su Canale 5, è stata la stessa Maria De Filippi a chiedere alla Galgani Gemma, che ti è preso oggi con Giorgio? Ti interessa ancora Giorgio? Anche Giorgio Manetti ancora legato a Gemma? Da qui la risposta della dama dovremmo chiederlo a lui, perché ha rilasciato un'intervista importante in questi giorni. Ha detto che non c'è un'altra donna come me. Parole quelle di Giorgio che inevitabilmente portano Gemma a credere che anche per lui rimanga ancora un interesse per lei. Tuttavia Manetti sembra cancellare le speranze della Galgani quando in studio spiega Ho detto che non c'è all'interno dello studio. Che non c'è stata fino adesso. Servirà però questo a far desistere Gemma? La dama, sempre poche puntate fa, ha definito quella avuta con Giorgio Manetti la storia, riferendosi agli amori incontrati nel corso di questi anni a uomini e donne. Sono proprio queste le parole che ci fanno credere che, in questo tempo passato dall'addio a Giorgio, l'amore per lui non sia mai stato cancellato. Copyright riproduzione riservata.